Sarà la porta a bandiera dell'Italia, la bella Michela Moglioli, alle Olimpiadi Invernali di Pechino in Scina, di ciò ci informa il Coloni Giovanni Malagò, dopo l'infortunio che c'è stato domenica scorsa a Sofia Goggia, la porta a bandiera azzurra designata. Malagò ha cambiato rotta, tra virgolette, sceglie, o meglio si è scelto proprio da parte del Coloni, mettere Michela Moglioli come porta a bandiera al posto della bravissima e simpaticissima Sofia Goggia, famosa scelatrice italiana per eccellenza. Insomma, per farvelo a breve, sarà proprio Michela Moglioli a fare la porta a bandiera italiana, la campionessa di discesa libera di entrare a recupero, però è stata sostituita, ripeto, da Costei, che è una campionessa famosa di snowboard, parliamo di un'altra disciplina sportiva che sempre ha a che fare con la neve, infatti snow significa se non erro, proprio neve, slittino da neve, va bene? Se non fate errato. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, complementa la bellissima Michela Moglioli, ciao a tutti d'Aleandro, narratore italiano.